Eravamo qui oggi per un discorso su Eli Brooks e Ariel Filoi, come ho detto prima, giocatore che ha un livello di talento molto molto alto, ma anche un basketball IQ, intelligenza, molto molto alto e insieme loro fanno un complimento molto molto forte perché Ariel fa delle cose che Eli non fa, Eli invece fa un'altra cosa. Allora stiamo sempre cercando una chimica tra giocatori e squadra, allora con loro due c'è una bella chimica e danno molte possibilità a coach Christian e la squadra. Come ragazzi Ariel è molto tranquillo, è un veteran, è un giocatore che ha giocato molti anni, tranquillo, serio, ma ha un cuore come un competitore che è altissimo e invece anche Ila ha un atteggiamento bello, tranquillo, però nel campo è un po' non vuol dire assassino, ma tutti e due hanno un cuore da battere l'altra squadra quando si entrano in campo. Allora atteggimenti che a noi piace molto.